Allora quest'anno sarà dedicata a una persona speciale che non c'è più che è venuta a mancare, si chiama Celestino Grande, è una persona che è stata sempre con noi e che rimane sempre con noi, perché comunque è stata una delle persone che ha creduto nella prevenzione, in dieci anni è stata sempre con noi, non ci ha mai fatto mancare l'affetto, la fiducia in quello che facevamo, è venuta a mancare qualche settimana fa e penso che sia il caso che ridichiamo a una persona che ha lavorato sul territorio, sul territorio irpino in particolare, quando nessuno ha creduto lui comunque è stato sempre con noi. Dottore ci potrebbe essere un gemellaggio anche con la festa di Nola? Ah, questo è tutto allora, vedi? Stiamo cercando di portare anche il giglio di Nola, quello della prevenzione, quello che è stato realizzato durante la festa dei gigli a Nola e quindi cercheremo di portarlo qui ad Avellino. Abbiamo chiesto al sindaco la possibilità di poterlo posizionare in un posto che magari può essere visibile per l'inizio di settembre e sarà sicuramente una bella cosa avere qualcosa che è stato fatto presso un'altra realtà e che però ha la stessa finalità, quella di arrivare direttamente alle persone che guardano e quindi guardare quel giglio significa ricordarsi delle persone che non ci sono più e quindi di fare gli esami. Ringrazio Carlo Iannace e tutte le associazioni che da anni si battono per la prevenzione e per la diagnosi precoce del tumore al seno. Grazie a questa rete di soldarietà abbiamo fatto un lavoro straordinario in questi ultimi anni, ormai siamo arrivati al decimo anno, quindi un appuntamento imprescindibile per tutte le donne dell'Irpinia. Io sarò felice di camminare al loro fianco a settembre e quindi porteremo in alto questo grande risultato del dottore e della sua squadra straordinaria composta da donne e uomini irpini.